Perché la lingua è bellissima. Perché lavoro in Italia. Per parlare con gli italiani. A settembre vado a scuola. Perché stui a canto? Perché mi ho fidanzato italiano. Devo iscrivermi all'università. Perché mi piace l'Italia. Imparare la lingua reale e utilizzarla in contesti autentici. È la richiesta più frequente degli studenti. In classe l'ha ascoltata e l'ha resa parte integrante del suo stile didattico. La nostra metodologia si basa su un approccio comunicativo. Vogliamo che gli studenti siano in grado di interagire in italiano con gli italiani fin dai primi giorni della loro permanenza a Verona. Tutti, principianti inclusi, devono avere la possibilità di andare a conoscere la realtà che li circonda. Scoprire l'arte, godere la cucina, vivere con naturalezza una chiacchierata con gli amici. Anche se le esigenze degli studenti sono diverse, noi cerchiamo di creare per ognuno di loro un percorso ad hoc, in modo che possa sfruttare al massimo il periodo che passerà qui a scuola da noi. Nei corsi di gruppo cerchiamo di mantenere un numero massimo di 5 o 6 studenti, in modo da dare a ciascuno molto spazio e da monitorare costantemente i loro progressi e le loro difficoltà. Ogni insegnante crea un ambiente di apprendimento rilassante, motivante e allo stesso tempo piacevole. È un contesto ricco di stimoli dove lo studente è protagonista del proprio apprendimento e in cui partecipa attivamente a attività di cooperazione con i compagni in un clima dinamico e interattivo. Le riflessioni grammaticali sono sempre dedotte dagli studenti attraverso l'analisi di test autentici o di video. Sono gli studenti a ragionare sulle strutture della lingua. Noi insegnanti siamo in classe per aiutarli e per guidarli in questo processo spontaneo di acquisizione. Simulazioni e giochi didattici hanno poi lo scopo di rendere quanto appreso immediatamente applicabile ed efficace. Queste attività aiutano a rompere il ghiaccio e a superare imbarazzo e timidezza, così anche gli studenti più riservati possono partecipare all'attività che l'insegnante propone in classe. In classe crede fermamente nell'imparare attraverso il fare. È importante che i nostri studenti si divertano con la lingua per impararla nel modo più naturale possibile. La realizzazione di piccoli gioielli, la degustazione del vino, come fare una pizza, laboratorio di pittura e di disegno, sono modi per gli studenti di stare insieme usando la lingua italiana in maniera naturale e la lingua diventa così il veicolo e non il fine dell'apprendimento. Buona serata! Ci vediamo! Ciao! A domani! Ciao! 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 !